Ciao a tutti e benvenuti su MTGP's by Magies of Lotus. In questa puntata parliamo di tre carte che secondo noi andrebbero sbannate in Modern e che invece sono bannate. Allora partiamo subito da Gemellare che è Sprinter Twin. Da quando è stata bannata sono usciti due set di Horizon, tra cui la Force of Negation, e quindi ci sono tante risposte per la carta e il paura deve essere stato parecchio, quindi secondo noi non è sbagliata, quindi andrebbe sbannata. Poi passiamo alla ditta di Umezawa, un artefatto equipaggiamento a costo 2 che fa tre cose diverse se la creatura infligge danno. Negli ultimi tempi sono usciti molte carte che risolvono questa carta in maniera ottimale, con la Gun Command, Prismatic Ending, Prismari Command, Decay, ce ne sono veramente tante. Quindi non ci sentiamo di dire che è sbagliata, anzi è abbastanza fair e quindi ci sta a giocarla e renderla legale nel formato. Passiamo alla terza carta che è Fuoco Punitivo, beh questa tiene molto sotto controllo Iagro, però è lenta e ci costringe giocare Boschetto dei Salici Ardenti, quindi se non giochiamo il verde facciamo fatica a giocarla. La carta non è detto neanche che entri nel main deck di tutti questi deck, ma anzi potrebbe essere una carta side o da 1 o 2 per il main, quindi secondo noi va sbannata. Un saluto e un abbraccio da Megisa Fragios, ciao!